Sono numerose le attività promosse dall'Unitra di Barletta nell'ottica di una cultura di pace, di democrazia, di integrazione, di promozione dei diritti umani che abbraccia tutti senza alcuna differenza di età, di sesso, di religione e proprio in tale dimensione l'Università della Terza Età ha inteso collaborare alla promozione del concorso La Luce degli Ideali dedicato a Silvia e Antonio Ruggero, rivolto agli alunni delle medie inferiori e superiori e agli studenti Unitra. Un concorso ideato dall'associazione Home and Home con il Club Unesco di Barletta, in perfetta armonia con i Club Unesco di Biceglie, Canossa, Cascina, Cerignola, Trani e con i Lions Club Barletta Hostel e il Westminster College. È rivolto a tutti coloro che vogliono creare una cultura di pace attraverso la conoscenza di quella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che è alla base del nostro percorso, della storia degli ultimi decenni. È rivolto a varie categorie, in particolare agli alunni delle scuole medie inferiori con un elaborato grafico, mentre gli allievi delle scuole medie superiori dovranno creare un elaborato di tipo multimediale, più vicino quindi al loro modo di esprimersi oggi e gli allievi dell'università della terza età invece dovranno creare un componimento inversi. Ricordiamo che con il concorso si intende anche ricordare la coppia, la famosa coppia Silvia Agliaci, Antonio Ruggero, i tuoi genitori che tanto hanno fatto in questa direzione. Sì, infatti, anche il titolo del concorso prende spunto da una raccolta di contributi che proprio Silvia Agliaci aveva curato alcuni anni fa, sempre con questo intento di diffondere, di far conoscere questo patrimonio ricchissimo che è la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Ricordiamo anche che lo scorso 10 dicembre, proprio nel corso di un incontro, già si sono poste le basi di questo lavoro. Sì, era stato lì lanciato questo concorso e ora stiamo un po' raccogliendo i primi esiti, però c'è ancora tempo fino al 10 febbraio.